faim bujan intanto benvenuto su spettacolo mania ben ritrovato grazie grazie a voi allora a quattro anni dal film bangla torna bangla che praticamente è un sequel però una serie come mai non avete fatto un secondo film avete scelto una serie forse perché avete più cose da dire quindi vi serviva più tempo sì 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 è stata in verità quando poi è uscito il servizio sul nemo con francesco medosi e la fandango mi aveva chiamato all'inizio emanuele scheridge ha proposto di proprio fare una serie serie però laura paolucci la produttrice ha proposto su una prima opzione di magari partire con un piccolo film per poi poterlo vendere come una serie quindi infatti molte molti argomenti li abbiamo tagliati sul film che avevamo pensato e poi abbiamo messo all'interno della serie molto divertente anche la serie devo dire siamo sempre ovviamente a torpigna insomma da quelle parti anche se girate un po e si parte appunto da dove è finito il film e si va direttamente alla questione sesso che è molto scottante no per per faim che deve barcamenarsi tra due culture accade veramente tutto questo che vediamo nel film nella serie anzi eh sì sì diciamo che è l'argomento ovviamente comunque prende piede e fa da firruce no quindi assolutamente tiene però andiamo anche a esplorare diversi argomenti e anche diversi punti di vista no grazie anche all'introduzione di un nuovo personaggio che è quello di sumai e quindi abbiamo se nel film avevamo un punto di vista maschile quindi sulla serie è importante anche per un punto di vista femminile che secondo me era assolutamente fondamentale però anche dall'altra parte no quindi dalla parte di Asia vedere anche lei cosa prova per lui effettivamente andare a fondo quindi abbiamo cercato un po di scavare all'interno dei personaggi ma l'abbiamo fatto anche con con i genitori quindi sia di lei che di lui quindi abbiamo pure lì cercato di sviscerare quali sono i problemi che insomma se se hai già visto nel secondo episodio comunque la grande cena è un pranzo una cena la grande tavolata sì senti hai nominato carlotta antonelli ritroviamo anche pietro sermonti ritroviamo anche simone liberati avete insomma ricomposto un po il cast del film sì 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 l'idea era appunto di cercare di riconfermare comunque tutte le persone che avevano lavorato nel film come si dice no squadre che vincono non si cambia quindi no no perché comunque sai è quello ti aiuta anche nel processo sia creativo perché comunque conosci vita e morte e miracoli di di alcuni no degli attori quindi in qualche maniera poi cercare di valorizzare alcune loro caratteristiche perché appunto già nel film l'avevi conosciuti e quindi abbiamo cercato tutti insieme di mantenere la stessa linea senti faim questa questa condizione che vivi insomma che vive il tuo personaggio nel film no è anche quella un po di evitare una scelta lui è quasi contento di partire per londra così dice pecco una volta è via e non c'ho più il problema però è anche un po quello che gli dirà poi appunto quest'altra ragazza devi scegliere tra avere rimorsi o rimpianti e non è semplice vero sì sì come l'hai descritto tu no una persona coraggiosa che sta a rischiare dice meglio che mi tolgo direttamente causa forza maggiore nessuno può dirmi nulla no sai è così cioè nel senso alcune alcuni miei coetanei vivono in questo limbo no perché magari paradossalmente per loro un problema lavorativo e magari no un problema matematico è quasi paradossalmente più semplice da risolvere quando si tratta di sentimenti no se un po se un po sul filo del rasoio perché da una parte noi viviamo il concetto del dei nostri genitori che comunque sono arrivati qua ci hanno hanno fatto dei sacrifici per farci studiare quindi no un po ti senti debitore però effettivamente pure lì tocca trovare un compromesso tra cosa vuoi tu e cosa vogliono loro perché sennò effettivamente come si vede nel personaggio di faim non ne esce e manellino limbo non sa che non puoi c'è una scelta va presa anche perché salta anche londra per cui senti comunque non sei l'unico che ha dei problemi insomma di questo tipo nella serie però tu li dici cioè tu li esponi invece altri magari stanno un po più zitti sì sì io credo anche un po per per imbarazzo sai per non non dare dell'occhio quindi si si tende magari non parlarne però è inevitabile che se tu vuoi risolverlo un problema lo devi prima esplicitare poi se si trovano sotto nemmeno sta a te però secondo me almeno dire ok qua c'è un problema anche se può magari negli occhi degli italiani può sembrare magari banale perché dicevo queste cose succedevano 50 anni fa da noi non è possibile che succeda ancora oggi invece secondo me è importante esprimerlo tra noi succedono altre cose che succedevano 50 anni fa quindi tranquillo tranquillo un'ultima curiosità ritroviamo anche questo tuo parlare in qualche modo al pubblico no a chi ti vede che è come parlare con qualcuno che non si conosce ma che non ti può neanche rispondere insomma quindi ecco volevo sapere un po il valore di questo tuo racconto alla telecamera ma è più forse più una richiesta di aiuto no nel dire ok guardate io c'è un problema come potrei fare no è un po come chiedere una spalla ad un amico quindi per me era quello il concetto no per dire vedete cioè comunque ho delle difficoltà anche io come possiamo fare datemi una mano però non ti può rispondere nessuno quindi ti arrangi come si dice a roma e sei un po più adulto quindi insomma ti senti più maturo ad affrontare questa questa serie questo lavoro comunque rispetto a quattro anni fa quando ti sei lanciato con il film ti senti un po più sicuro sì sì assolutamente il film mi ha formato e quindi la fortuna di aver iniziato molto giovane ti dà molta più consapevolezza e sicurezza però diciamo che cioè rimango con i piedi per terra perché ho ancora tanto da imparare però diciamo che è una buona partenza ecco per ora buonissima direi tanta ironia ti ringrazio tanto complimenti faim grazie a presto alla prossima ora manca uno spettacolo teatrale perché anche il teatro esatto esatto